No, infatti abbiamo iniziato bene la partita, poi abbiamo faticato un po', secondo me siamo sempre partite ogni set un pochino spente, un muro difesa, una palla che cadeva, un po' di frustrazione così, però siamo state brave comunque a portare la partita a casa 3 a 0 e quello era l'obiettivo. Sì, non è una situazione massimale, però è così, è per tutti così, quindi domani ci aspetta un'altra partita, non abbiamo ancora visto le due squadre, però rimaniamo per la partita e vediamo, comunque dobbiamo pensare al nostro gioco e proviamo a migliorarlo per domani.